Nessuna cessione dell'Arezzo, Giorgio Lacava smorza sul nascere il malcontento che si era creato dopo la pubblicazione della notizia di una sua possibile volontà di cedere la società a un gruppo di imprenditori. Indiscrezioni che avevano portato a parlare anche di un possibile incontro tra le parti per lunedì prossimo. Una notizia che aveva messo in subbuglio la piazza risvegliandola da quella che sembrava essere un'estate serena e che stava iniziando a creare possibili malumori nello spogliatoio, tanto che nella giornata di venerdì i giocatori per tramite del capitano Agnello Cutolo hanno chiesto notizie al direttore sportivo Testini su quello che stava accadendo, ricevendo rassicurazioni. Ora il presidente Lacava smentisce in prima persona qualsiasi trattativa per la cessione. Mi è sembrato inutile farlo prima, smentire quello che non esiste, ha detto, mentre conferma di aver rifiutato dal gruppo di Giacomoni l'accessione del settore giovanile a Maranto. Questo dovrebbe essere un buon segnale per tutti, ha aggiunto Lacava. Dire che non sono soddisfatto della mancanza di sponsor è un discorso, dire che voglio cedere la società è un altro. Il caso dunque sembra chiuso, almeno visti i precedenti per ora.